Ed eccoli qui i nostri ospiti, vi li presento subito. Abbiamo sulla sinistra, guardate che bella, Namibia, e invece sulla mia destra abbiamo Spiga. Perdonatemi, voi siete di Serie B in questo momento, quindi Alessandro Rosati, Matteo, da Luca, grazie per essere qui. Perché i protagonisti sono proprio loro. Allora, prima però di farvi vedere quello che riescono a fare, io direi che approfittiamo proprio di queste belle giornate per regalarci una passeggiata con il nostro amico a quattro zampe al mare, nei parchi, in campagna, in montagna, decidete voi. Ma intanto quanto fa bene? E poi qual è il ritmo che deve avere il nostro amico a quattro zampe? Ci riusciamo? Vediamo quello che accade nei parchi di Roma con il nostro Massimo Tosi. Piru, 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 lei tu sei suo papà, io sono la sua mamma. Non cominciamo con questi diocii del papà e della mamma, capito? Io a te non ti conosco, a te non ti conosco. Ma quale bacini, quale bacini? Cari amici di una mattina, quanto è bello stare in casa con il proprio cane? Tutti quanti ben lo sappiamo. Anche perché il giusto riposo ci ricompensa di tutte le volte che dietro lo rincorriamo. Rido, aspetta! Oggi parliamo di queste meraviglie. Come si chiama intanto? Cocò. Cocò, come portarlo a spasso? Tira ogni tanto, è facile, fa perdere qualche chilo correndo. No, no, devo dire che non tira più di tanto. Io sono sicuro che se lo provo io, a me in terra mi fa cadere subito. Cocò! Andiamo Cocò! Come si chiama? Laika, quindi una femminuccia. Proviamo a vedere se Laika mi aiuta a perdere un po' di peso. Che dice? Andiamo Laika! Laika vuol stare con me? Eccola, eccola, come si chiama sta meraviglia? Flora. Flora. Corre, salta, è una meraviglia. È una meraviglia, ci fa perdere chili. Ma lei non ne ha bisogno, vedo. Anzi, per quello allora è merito suo. Lui si chiama Muso? Il nome è giusto, è più facile da chiamare. Tu scusizzi la Muso. Com'è portarlo in giro a spasso? Com'è? Piacevolissimo. Vedi che non si muove con me, come mai? È distratto dalla telecamera. Vedo che va, e va veloce lei. Sì, sì, lei è molto vispa. Ma loro ogni tanto ti ha fatto cadere portarla fuori, o no? Strattonato. Diciamo quasi ogni giorno. Amore! Com'è portare Leone? È faticoso? Da morire. È un treno, non si ferma. Proviamo? Provo. Leone, andiamo avanti, va. Aiuto, aiuto. Se non mi vedete tornare, saluto tutti gli amici di una mattina. Addio, arrivederci. Leone! Vai, resta. Vai Massimo. Grazie Massimo. Allora, era in realtà da Palermo, mi sono reso conto. Allora, spiga, guardate un po'. Spiga. Dormi. Giù. Brava! Aspetta. Abbaia. Abbaia. Dammi 5. Dammi 5. Ma che brava che sei! Ma come ci sei uscito! Ve lo spieghi? Beh, spiga, diciamo che è un cane che lavora nel cinema. Ecco. Lavora su Isetta da quando era piccolina. Allora, intanto raccontiamo la storia. Io conosco benissimo, spiga, perché la RAI mi ha dato tanti anni fa una bellissima possibilità, conducevo un programma che si chiamava Cronache Animali, dove Alessandro ha educato prima me a conoscere il linguaggio degli animali e Spiga è stata la mia compagna per tantissimi, per due anni. Sì, sì, sì. Ecco, ma come sei riuscito però ad educare? Tra l'altro ricordiamo che Spiga è stata una trovatella. È stata trovata dentro un cassonetto dell'immondizia e ormai 9 anni fa... E addirittura anche con Bruno Vesper eravamo a porta a porta. Sì, sì. E, presente, niente, lei apprende tutto molto velocemente sin da quando era piccola, quindi ha queste capacità, imparava continuamente cose nuove, quindi... Ecco, ma il fatto di tenerla adesso, voi non vedete, ma davanti a noi ci sono una trentina di persone, le telecamere, come riesci a rendere lei in questo momento attenta solo a te, a quell'azione poi che deve fare? Sì, diciamo che è un'abitudine per il cane, nel senso, lei è da piccola che è cresciuta sui sette, quindi ormai per lei è una cosa normalissima, quindi non ha... Abbiamo visto gli amici un po' stassole, poi Alessandro Casma... Un po' stassole, abbiamo fatto tanti film con Spiga, sì. Qual è stata la parte più difficile che hai avuto, diciamo, in una parte, in un'azione quando ha dovuto recitare? Ha dovuto? Perché poi recita, tutti che fessi. Sì, sì, sì. Paradossalmente la cosa più difficile è correre presso un'ambulanza per circa un chilometro. Non ci credo. Sì. E come è fatto? Erano a Castella a mare e abbiamo fatto questa scena, è stata dura. Ok, adesso... Matteo presente. Matteo, Matteo da Luca, vengo da te, allora. Intanto, invece, Namibia cosa riesce a fare? Allora, Namibia riesce a fare diversi tricks, diversi giochetti, quindi te ne faccio vedere qualcosa, se vuoi. Vediamo un po'. Vieni, Namibia, seduta, orsetto, ok, twist, twist, ferma, clock, clock, terra, terra, bene, roll, 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 brava, amore, super! Matteo, vuoi provare con me? Vai. Vai, salta, con me. No, ma poi non so se avete visto, anche il muso, in questo caso, di Namibia, perché guardate l'amore, cioè... L'attenzione. L'attenzione, ma poi anche gli occhi con cui ti guarda. Ricordiamoci anche che questo è un cane da pastore, quindi diciamo che naturalmente è propenso ad avere sempre il riferimento verso il proprietario, perché sono selezionati proprio per questo. Ecco, che utilizzo a Namibia in questo caso, invece? Allora, Namibia, anche lei, nasce come cane da conduzione del grege di pecora in Francia. Poi, chiaramente, essendo un cane molto proattivo, può essere impiegato nelle più disparate attività, come l'agility, lo sheepdog, l'obbedienza, gli attacchi, diverse cose. Quali sono state le ultime cose che hai fatto con lei? E poi, se ci fa vedere altri esercizi pure che riesci a fare? Namibia, guardia. Brava. Brava, guardia. 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 Puoi reggere un attimo? Certo. Vieni, Namibia. Guardia. Guardia. Brava. Vai, op. Vai, Namibia, op. Brava. Vai, 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 op. Bravissima. Il premietto ci vuole sempre, alla fine. Allora, quello che avete visto con Massimo Tosi era praticamente impossibile, però questo per dirvi che cosa, avete visto il rapporto che c'è tra il nostro amico a quattro zampe e, in questo caso, si chiama Matteo e Alessandro, ma quando andiamo nei parchi, spesso vediamo veramente quelle scene pazzesche, ossia che non riesci a portare il tuo cagnolino, che possa essere piccolo come spiega, ma grande, un molossoido e gigantesco. Allora, Alessandro, qual è il miglior modo per avere questo rapporto proprio con il cane? Passarci tempo insieme, passarci tanto tempo insieme e cercare sempre di collaborare col cane, quindi o con i premi o con il gioco riusciamo ad ottenere l'educazione del cane. Ecco, ma quando siamo con loro, ad esempio, noi vediamo quelle scene, intanto come ti guarda? Io neanche ho i figli che mi guardano così, no, veramente. Allora, il fatto di avere il cane, ad esempio, io mi ricordo quando facevo cronaca animali, lui mi insegnava sempre di portare il guinzaglio un po' dietro, inizialmente averlo corto e poi gradualmente lasciarlo un po' più lungo, un po' più lungo, perché si doveva abituare comunque il cane a non oltrepassare mai, diciamo, il mio passo. Inizialmente ci avvaliamo anche del cibo. Ecco, quindi facci vedere. Ci la mettiamo al fianco, l'abituiamo ad associare la gamba al cibo, in modo tale che ci sarà sempre da questo lato senza allontanarsi più di tanto. Vedete? Piede, brava Namibia, andiamo? Piede, brava ragazzi, molto bravissima, vedete così fa questa associazione e prova a piacere nel stare vicino a noi. Poi chiaramente ci tengo a precisare una cosa, tanti proprietari lo chiedono questo, ma il cane si può portare da sciolto in giro in città? Assolutamente no. Sempre con il guinzaglio. Sempre con il guinzaglio. La legge non lo consente ed è anche molto pericoloso per i nostri amici. Allora, io ho avuto la fortuna, voglio condividerlo anche con voi, perché quando abbiamo fatto Cronaca Animali avevamo deciso, noi ogni settimana davamo un cane in adozione e dato che abbiamo fatto risparmiare anche i soldi proprio al comune, al milione risparmiato, in quel caso era il comune di Napoli, ho detto che qualsiasi cane dovesse arrivare decido di prenderlo. E arrivò un bellissimo cane, però una stazza così grande, Aaron. Lì la prima cosa che ho fatto quale è stata? Ho detto, Alessandro, mettiamo in un bel collare quelli che quando poi lui tira stringe il collo perché si ferma. In realtà lui diceva, no, devi iniziare proprio con la pettorina, cioè con la parte dove lui devi interagire con lui. Eccolo qui, questo è Aaron. Questo proprio per dire che è il rapporto che devi avere con il tuo amico? Sì, sì. Devi cominciare per forza ad avere un rapporto, è il tempo, serve tempo per educare i cani, devi passarci tempo, se non hai tempo i cani non puoi tenerli. E quando siamo nel parco e ci sono vari cani, devono comunicare, devono giocare tra di loro? Sin da piccoli, sin da piccoli perché comunque lì formano il carattere, formano la socializzazione, quindi è importante portarli da piccoli a conoscere altri cani e a, diciamo, giocarci. Quindi alla fine l'importante è proprio la socializzazione con altri cani. Spica, vieni qua, vieni qua. E allora io vi ringrazio, questa puntata la dedichiamo a questo punto, permettetelo questo spazio proprio perché era anche il tuo compagno. Purtroppo Aaron ci ha abbandonato il 6 di aprile, era un compagno vero e proprio. Grazie perché mi ha fatto veramente vivere un bel momento. Grazie Alessandro, grazie Matteo. Grazie.